allora salve a tutti benvenuti e ben ritrovati per chi già conosce questa modalità di svolgimento dei miei video commenti benvenuti per chi per la prima volta seguono questo yoginar yoginar è un termine inventato da uno dei miei follower che ha unito jogging con il webinar quindi parleremo di diritto parliamo di aspetti normativi in particolare oggi faremo concorsi e ho ripreso a parlarne dopo due o tre mesi di sospensione dovute al coronavirus quindi spero che mi sentiate datemi una conferma che riuscite a sentire nonostante la mascherina obbligatoria anche nella corsa magari non per il naso allora vediamo un po ciao a tutti allora di cosa parliamo dei concorsi pubblici allora alcune indicazioni trucchi suggerimenti visto che stanno ripartendo in maniera significativa quindi lo dico a chi si sta preparando di rimettersi sotto perché potranno arrivare le convocazioni sappiamo che per gli iscritti per l'orale spesso c'è un termine minimo 15 20 30 giorni quindi potreste avere già le prove nelle prossime settimane allora prime considerazioni vado un po in ordine sparso però sono suggerimenti trucchi e poi se avete domande risposte ai quesiti allora primo molti mi scrivono dicendo alleggo il bando del concorso x dove prevista questa materia sono previste nozioni di diritto amministrativo elementi di appalti o la disciplina del procedimento amministrativo allora una considerazione proprio procedurale quando partecipate ai concorsi il bando che andate a leggere è redatto da un soggetto che non è quello che farà le prove concorsuali il bando elaborato dall'ufficio risorse umane del comune dal responsabile del servizio sulla base di tracce spesso ormai consuetudinarie dove vengono inserite delle materie più o meno generiche ma che non sono vincolanti per la commissione la commissione che poi troverete soltanto successivamente alla scadenza della presentazione delle domande quindi è la commissione che stabilisce poi quali sono gli argomenti quindi non fate troppo affidamento al contenuto delle materie del bando anche perché l'approccio minimalista diciamo così cioè studio solo quello che è richiesto è un approccio perdente ai concorsi si va per vincere ai concorsi si va per dimostrare che si sa più di quello che mi ha richiesto nel bando lo dico sempre a chi mi segue non partecipate ai concorsi come si partecipava alle interrogazioni delle superiori o agli esami dell'università punto al 21 poi si starà a vedere punto alla sufficienza poi si starà a vedere no ai concorsi si va per vincere non serve a niente classificarsi e non venire assunti ok questa è la prima considerazione importante si studia quindi a prescindere dal bando se partecipo al concorso amministrativo categoria c o d in un ente locale le materie sono quelle guardate non c'è differenza fra categoria c e categoria d non vi è nessuna differenza cambiano solo l'approccio e le prove concorsuali ma non c'è differenza di contenuto di preparazione un'altra cosa importante riguarda i testi la documentazione come prepararsi ai concorsi allora molti molti fanno l'errore di buttarsi sui testi normativi soprattutto ora che sono facilmente accessibili in internet non lo fate i testi normativi si guardano solo alla fine della preparazione dopo quattro cinque mesi di preparazione perché le norme sono difficili le norme sono difficili da capire da comprendere il linguaggio normativo è un linguaggio prescrittivo non è un linguaggio descrittivo come lo sono i libri di testo quindi la preparazione si fa sui libri di testo se volete avete occasione su un corso solo alla fine per confermare le nozioni apprese nel libro di testo si vanno a cercare le norme che mi servono per memorizzare meglio per imparare alcuni articoli perché purtroppo un po di nozionismo serve per riuscire a citare a ricordare determinati articoli è importante se non fondamentale se dovete fare la redazione di un atto non sapete che l'articolo 19 della 241 è sulla scia che gli articoli 4 46 47 del dpr 445 sono sulle autocertificazioni che l'articolo 36 è sugli affidamenti sotto la soglia comunitaria del 50 2016 eccetera eccetera ovviamente perdete quel mezzo punto quel punto ma non è tanto il punto di per sé chi legge all'impressione che conosciate ma non abbiate viva la materia quindi l'approccio alle norme c'è è importantissimo fondamentale fondamentale per guadagnare punti aggiuntivi ma non è da attivare diciamo inizialmente come primo approccio di preparazione stessa cosa vale per la preparazione dei quiz i quiz non si fanno prima di essere arrivati a metà della preparazione metà diciamo avanzata perché il quiz non è importante indovinarne più possibile spesso c'è una componente di fortuna spesso non so il livello difficoltà dei quiz potrei fare 29 trentesimi essere felice ma era una batteria semplice quindi il quiz è importante farlo quando si è in grado non di rispondere bene paradossalmente ma di sapere perché le altre risposte sono sbagliate in un quiz con quattro risposte possibili si è all'ottimo della preparazione se si riesce a capire perché le altre tre sono sbagliate non perché quella lì è giusta e se non siete a questo livello non vi approcciate ai quiz tanto guardiamo se ci sono domande o interventi fate pure anche io se ce la faccio leggo e vi dico allora come sono articolate le prove concorsuali lo sapete c'è una preselettiva la preselettiva è a scelta dell'amministrazione la preselettiva non ha lo scopo di selezionare sulla base del merito e basta perché la preselettiva ha lo scopo di selezionare il numero di partecipanti così da ridurre quelli per le prove di merito quindi la preselettiva può essere integralmente psicoattitudinale di logico di cultura generale oppure può essere un mix generalmente è un mix con alcune materie con alcune domande sulle materie di concorso e alcune domande di logica e cultura generale questo è diciamo la batteria preferita ovviamente non ci si prepara sulla cultura generale lì si va con il bagaglio culturale che sia mentre per la logica vi consiglio un testo specifico c'è un bellissimo testo delle edizioni simone che spiega i quiz di logica che sono sempre gli stessi cioè alla fine le domande di logica ruotano intorno a 6 7 tipologie un po come imparare a risolvere la settimana eligmistica una volta che sai come si fanno i cruciverba come si fanno i rebus come si fa il sudoku e imparato la tecnica è solo di questione di esercizio e mettere in atto questa esercitazione e questo è la preselettiva attenzione qualcuno mi chiede ma dopo lo stop del coronavirus un ente può annullare la preselettiva no se la bandita e la prevista ovviamente deve essere svolta il che significa che il numero di partecipanti è elevato e quindi è probabile che si vada a settembre ottobre per la prova questo è inevitabile allora guardiamo qualche domanda scusate non riesco a vederle tutte bene quindi rispondo a quelle che vedo concorso ministero dell'ambiente profilo ecco non esistono quiz precedenti materie proprio tecniche come si fa allora ministero dell'ambiente ovviamente vi dovete concentrare sugli argomenti specifici esiste un testo unico dell'ambiente e quindi avete un riferimento normativo abbastanza organico ricordatevi la materia è di legislazione concorrente quindi avete sia le norme statali che le norme regionali ma ovviamente partecipando a livello ministeriale non serve che andiate a analizzare le norme statali le norme regionali che suggerimenti vi posso dare fondamentalmente andare sul sito una delle prime cose da fare in tutti i concorsi è andare a cercare la specificità dell'ente che l'organizza se il ministero vado sul sito ministero dell'ambiente nelle banche dati se il comune vado a vedere come predispongono gli atti i dirigenti o le delibere di giunta quindi il fatto che non esistano quiz precedenti è vero anche se esistessero la materia dell'ambiente una materia molto in evoluzione per la preselettiva e la selettiva ti direi studia solo la parte teorica non ti concentrare sulla parte pratica poi il valore aggiunto di questi concorsi è analizzare i provvedimenti sia di carattere ampio valutazione di impatto ambientale valutazione integrata strategica sia l'autorizzazione unica ambientale l'autorizzazione integrata ambientale quindi i grandi istituti alcuni approfondimenti riguardano anche le antenne di telefonia il 5g insomma tematiche che si devono andare a cercare con un po di fatica perché anche la manualistica non è spesso frequente e quindi c'è questo limite vediamo un po se ci sono altre domande altre richieste allora io come sapete chi mi segue faccio prevalentemente formazione per gli enti locali anche se mi sono dato al corso per i dipendenti in regione tra l'altro invito chi sta studiando per il concorso in regione ad accelerare la preparazione perché non è escluso che arrivi la convocazione a breve e nel settore sanità però diciamo parliamo di una preparazione tipo diciamolo così come me la vedo io la preparazione intanto il consiglio che do a tutti iscrivetevi a quanti più concorsi possibili i concorsi pubblici sono fondati anche sulla statistica se io ho una buona preparazione sono preparato bene non ho la certezza di vincere il concorso anche se è un'ottima preparazione ma ho una buona probabilità mi può andar male per vari fattori da quelli più sciocchi quella mattina ho la febbre sto male ho dormito male oppure in quella stessa data mi vengono convocate più prove quindi ne devo saltare una a fattori meno sciocchi che possono essere esce la domanda su una materia che ho trascurato perché ricordate quando studiate per i concorsi non sarete mai bravi in modo omogeneo ognuno di noi ha delle preferenze così come nella vita c'è chi ama andare a correre in bicicletta fare pallavolo fare tennis non è sbagliato nessuno di questi c'è anche il decatleta ma anche il decatleta non sarà mai bravissimo in tutte le discipline avrà delle discipline di punta delle discipline meno importanti quindi il 90 per cento di voi odierà la parte finanziaria degli enti locali allora dovete imparare a prepararvi dove siete deboli invece l'errore di molti che si preparano ai concorsi anche in un'ottica consolatoria studiano e ristudiano le materie che conoscono non va bene dove siete forti lasciate perdere vuol dire che ci arrivate vi viene naturale viceversa quando siete deboli su una materia rischiate di perdere tanti punti lì il differenziale può essere significativo allora andate a studiarla ad esempio finanza e contabilità è la materia più odiata da che partecipa ai concorsi pubblici quindi è quella su cui posso fare la differenza e allora la vado a studiare bene certo se poi trovo come concorrente un laureato in economia e commercio che ha esperienza in comune nel settore finanziario non c'è verso non lo raggiungerò mai arriverò secondo però non trascurate quella secondo anche se vi può sembrare molto astratta molto generale non trascurate il diritto costituzionale diritto costituzionale da cui ho fatto sempre nei concorsi nei corsi di preparazione con corsi è la base del diritto quindi va preso a riferimento perché vi aiuta anche dove la domanda vi può sembrare assurda o mai affrontata e vi aiuta anche all'orale dare la sensazione o la certezza di avere la padronanza delle basi del diritto il diritto amministrativo si fonda su principi non su disposizioni non è mnemonico come il civile o il penale è molto più fondato su principi i principi sono in primo luogo costituzionali interni e costituzionali comunitari quindi approfondite quell'aspetto guardiamo se ci sono interventi se ne ho saltati qualcuno allora come affrontare i quiz chi di voi segue le mie dirette sa che la mia tecnica che suggerisco di approccio al quiz è una tecnica alla meno diciamo così non si va a cercare la risposta esatta la risposta esatta nei quiz non c'è mai i quiz sono una descrizione sintetica di un quesito che in ambito giuridico richiederebbe righe o pagine che sono sintetizzate in una o due righe quindi la risposta veramente giusta non la trovate mai ma si fa meno fatica a trovare l'errore nei quiz perché l'approccio psicologico di chi prepara i quiz è questo si iscrive alla domanda si iscrive la risposta giusta e poi si prende la risposta giusta e gli si aggiungono elementi che la vengono sbagliata di chi è la competenza ad adottare la delibera di variazione di bilancio domanda me la sono inventata in questo momento prima risposta che è quella corretta la competenza del consiglio salva l'adozione d'urgenza da parte della giunta con ratifica bla 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 seconda risposta la competenza della giunta terza risposta è la competenza del consiglio e non è possibile la l'adozione da parte di olgano del altro organo dell'ente la competenza quarta risposta la competenza del legale rappresentante dell'ente il sindaco quindi cosa ho fatto sono partito dalla domanda ho pensato a quella giusta e poi ho pensato a come rendere sbagliate per piccoli aspetti o grandi aspetti il trucco dei quiz perché ce ne sono alcune risposte clamorosamente errate altre risposte parzialmente errate in questo caso quindi un quiz di questo genere cosa mi porta a escludere immediatamente direttamente l'ultima il sindaco questo ovviamente se non ho la preparazione di base i quiz non si affrontano io lo dico sempre quiz non sono una soluzione solo tecnica solo di regolette e diciamo metodologie trucchetti di moda settimanistica anche il cruciverba della settimana linguistica ci possa arrivare perché c'ho delle caselle riempite ma se non conosco la cultura generale non riesco a completare il cruciverba stessa cosa vale per i quiz io devo avere la preparazione poi a seconda della fortuna della capacità di individuare quelle sbagliate io lo dico sempre almeno almeno passate dal 25 per cento di possibilità che avete rispondendo a caso al 50 per cento di possibilità quando vi rimangono due opzioni se siete ad un buon livello di preparazione voi dovete essere in grado sempre di arrivare alle due opzioni che mancano sulle quali c'è da fare un ragionamento che sembrano molto simili e io lo dico sempre non solo sembrano molto simili ma le due opzioni che mancano una è la risposta giusta l'altra è la risposta giusta una domanda diversa ed è qui la preparazione cioè capire a quale domanda risponde la domanda che io non ho messo come corretta quindi attenzione a questa approccio importante nella nei quiz non cercate la risposta giusta neanche se avrete fretta perché purtroppo i temi il tempo a disposizione per elaborare un quiz varia dai 30 secondi ai 60 secondi mediamente viene data un'ora per 30 domande un'ora e mezzo per 60 domande che non sono pochissime perché avrete delle domande veramente dove andate subito a rispondere delle domande che riprendono il doppio del tempo ragionate dopo aver fatto questa opzione ovviamente la preparazione ai quiz come detto ha presupposto la conoscenza della materia ancor di più la preparazione nelle domande a risposta aperta allora normalmente per le categorie c il concorso prevede la prima prova con domande a quiz mentre per le categorie di la prima prova è con domande a risposta aperta alcune volte con un numero di righe limitato 15 20 righe altre volte senza limitazione e anche qui l'esercitazione varia a seconda che si sia la limitazione delle righe o non ci sia ovviamente cambia proprio l'approccio nella prova domanda risposta aperta non potendo semplicemente barrare non è questione di fortuna lì è tutta capacità conoscenza e preparazione quindi un conto è studiare per i quiz che è la prima parte della preparazione diciamo dal secondo mese in poi e poi dovete affiancare la preparazione per la domanda risposta aperta dal quarto mese circa perché non è inutile farlo prima dovete avere consapevolezza di tutti gli aspetti iniziate a fare dei piccoli temi delle tracce dei riassunti scritti da voi non copiati dal libro tentate senza guardare il libro e il candidato illustri le competenze del consiglio comunale e buttate giù la traccia il candidato descriva il ciclo finanziario di un ente locale e buttate giù la traccia questo per arrivare all'orale l'orale è un mix dei quiz e della prova scritta perché perché le domande dell'orale sono identiche a quelle dei quiz quindi se voi andate a prendere le domande date all'orale dei vari concorsi vedrete che su quelle ci si può formare tranquillamente un quiz di chi è la competenza ad adottare il peg si descriva la competenza e si approfondiscono gli aspetti finanziari insomma una cosa del genere quindi si parte una domanda simil quiz dove non avete le opzioni di risposta per poi darvi spazio di approfondire altre tematiche allora qual è il trucco i trucchi che io consiglio e non è detto che siano graditi a tutte le commissioni quelle che consiglio io è uno non andare diretti alla risposta non bruciarsi la risposta fategliela gustare alla commissione quindi si parte dall'inquadramento della materia dopodiché si dà la risposta giusta e si usano i jolli chi mi segue sa che per jolli intendo quelle nozioni che non ci si aspetta che il candidato dia quella sentenza del consiglio di candidato quella giurisprudenza prevalente quella norma della disciplina di emergenza covid che non ci si aspetta che il candidato dica nel contesto dell'orale che ovviamente senza andare fuori tema vi può aiutare e su questo ci sono anche delle strategie cioè preparatevi già degli argomenti su cui siete forti cioè se siete forti sulla semplificazione amministrativa qualunque domanda all'orale vi facciano è facile portare il discorso sulla semplificazione è il tema del momento per cui preparatevi su qualche nozione covid qualunque domanda vi facciano è successa durante questo periodo di emergenza quindi quando vi preparate all'orale nella fase avanzata i jolli devono essere buoni i jolli non le potete vendere così perché potrete trovare dall'altra parte qualcuno che ne sa molto e poi vi interroga però i jolli possono fare la differenza possono fare quei due tre punti in più rispetto alla media delle risposte che uguale cioè mi parli della competenza del consiglio o mi dici l'articolo 42 e prendi e parti da 21 la sufficienza se non me lo dici sei insufficiente ma se mi dici solo l'articolo 42 rimani rimani lì rimani al 21 il vostro obiettivo arrivare al 30 e per arrivare a 30 non è che dovete dirlo a memoria l'articolo 21 dovete spiegare cos'è la funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo il rapporto del consiglio con la giunta il perché le tariffe le stabilisce la giunta e non il consiglio il perché delle nomine nei servizi pubblici locali magari la disciplina emergenziale dove per i buoni spesa la rinegoziazione dei mutui con la cassa depositi e prestiti eccetera eccetera si è derogato alle competenze del consiglio ecco ora veramente questi sono dei super jolly e non pensiate di maturarli diciamo nell'immediato però sono da valutare ho notato che generalmente non pubblicano le domande degli orali allora fino alla legge di bilancio 2020 non era prevista la pubblicazione di tutte le prove concorsuali invece è stata riformata la norma e purtroppo poche amministrazioni se lo ricordano oggi è prevista la pubblicazione di tutte le prove concorsuali comprese le prove dell'orale quindi pretendete con richiesta di accesso civico ordinario perché c'è l'obbligo di pubblicazione su amministrazione trasparente quindi non accesso civico generalizzato che vengano pubblicate le prove dell'orale perché vi sono utili sono un'utile esercitazione io ne pubblico spesso tante diciamo le prove dell'orale possono essere le più varie però poi vedrete che alla fine tranne che per enti particolari ministero dell'ambiente l'aci l'inps che hanno una loro specificità negli enti locali vai nei corsi preparazione per gli enti locali tu hai il testo unico degli enti locali e gira dove vuoi le materie sono gli organi quindi chi fa che cosa consiglio giunta sindaco dirigenti segretario generale eccetera eccetera le competenze quindi chi di chi ha la competenza e che e come si esplica la parte finanziaria molto nell'ultimo periodo il pubblico impiego pubblico impiego con tutta la tematica della responsabilità disciplinare dell'anticorruzione del conflitto di interessi del codice di comportamento non lo sottovalutate così come non sottovalutate la sicurezza sui luoghi di lavoro che è un altro tema che può venire in rilievo in questo periodo proprio anche a causa dell'emergenza dell'emergenza covid e questo per quanto riguarda il tuo testo unico gli enti locali ovviamente la parte finanziaria è la doppia scontata poi c'è la parte trasversale c'è la parte che riguarda non solo gli enti locali procedimento amministrativo l'anticorruzione la legge 190 con il piano triennale la l'informatizzazione il codice dell'amministrazione digitale e la semplificazione documentale quindi queste materie ovviamente sono importanti se non se non fondamentali allora guardiamo un po per l'ora che ho avuto venerdì ho creato tutti i collegamenti dei vari argomenti col decreto rilancio ottimo ecco grande silvia c'è riuscire a fare un orale e citare il decreto legge rilancio che è decreto legge uscito tre giorni fa è jolly ma all'ennesima potenza la facci sapere quanto è preso all'orale se se con lode e applai e bacio accademico impossibile in questo momento di mascherine però ecco facciolo sapere perché effettivamente chi è il motivo per cui insisto io quotidianamente faccio delle dirette sulla normativa in materia covid è normativa che si esaurirà quando saremo avremo finito questo periodo non ce la ricorderemo più la maggior parte delle norme sono già abrogate decreti che si susseguono e che abrogano i precedenti ma non è tanto sapere la normativa vigente è che un ottimo ripasso di diritto costituzionale amministrativo durante questa emergenza noi abbiamo riscoperto le ordinanze regionali contingibili ed urgenti previsti dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti i conflitti di attribuzione stato regioni l'impugnativa dello stato nei confronti delle ordinanze delle regioni l'annullamento straordinario degli atti delle regioni caso che non si verificava da vent'anni eppure è un capitolo del diritto amministrativo quindi è una grande occasione per ripassare in concreto su una cosa che fra l'altro ci riguarda direttamente e come ha fatto silvia sfruttarla all'orale magari avendo davanti una commissione che non sapeva nemmeno che era stato approvato il decreto di lancio perché vi potrete trovare anche questo e lo dico con estremo rispetto ma non sempre nelle commissioni di concorso ci sono gli einstein o anche se ci sono gli einstein non sempre sono aggiornati gli einstein quindi sfruttate questa possibilità è ovvio che se avete una preparazione molto approfondita e io lo dico sempre molti di quelli che si preparano spesso arrivano a un livello tale di preparazione di studio dei libri di studio dei testi che è migliore della preparazione dell'interrogato di chi interroga ma questo vale anche all'università l'università voi avrete sostenuto sicuramente degli esami con professori che non si ricordavano la nota del libro a meno che non l'avessero scritto loro di approfondimento perché ovviamente è richiesto un altro tipo di preparazione non c'è un aggiornamento quotidiano quindi sfruttate questo fatto chi studia bene arriva ad un livello ottimale di preparazione spesso superiore a chi interroga allora dovete portare la discussione sui vostri temi quelli su cui siete forti non su quelli in cui si è debole ecco perché far capire subito che si sa il contesto della risposta che si sa ragionare quindi non fate l'errore come qualcuno fa bravissimo bravissimo ahimè mi è toccato anche praticamente vederlo con i miei occhi da quasi 30 alla prova scritta teorica e poi zero sulla prova pratica o balbettante all'orale se comunque riesce ad arrivare all'orale e bisogna sapere esercitarsi anche all'orale serve saper dimostrare ciò che si sa siano pochi minuti 10 15 quindi vanno sfruttati bene allora bisogna esercitarsi un metodo è questo quello che sto facendo io video registrarsi oppure fare dei collegamenti web con altre persone io li sto stimolando li sto organizzando ci sono già gruppi di persone che seguono i miei corsi che si incontrano su aule virtuali dove spesso vengo anch'io e quindi approfittatene di questo allora guardiamo un po se ci sono altre domande ora non riesco a vedere bene spero che voi continuate a vedermi perché mi si sta surriscaldando il cellulare vediamo un po se riesco a mitigare questo effetto è venuta l'estate qui a Firenze lungo l'Arno un lungo l'Arno non particolarmente affollato per fortuna nonostante sia lontanissimo da essere i mani meglio tenere la mascherina io vi saluto se non ci sono altre cose e ci vediamo a brevissimo con i prossimi incontri